Il mio augurio per tutti nel mondo è questo, prendiamoci il tempo per ammirare come i pastori quella stella e poterla seguire fino a Betlemme per fermarci ad adorare il bambino, il figlio di Dio con la gratitudine di essere chiamati a seguirlo e poter lasciare nel mondo con la nostra vita una scia di luce, di santità proseguendo il cammino insieme. Allora con lui fra noi l'Emmanuele vi auguro buonissimo Natale, un ciao, un abbraccio a tutti e tutti.